Robert Rutto è iniziata la finale Scudetto con una partita subito tiratissima e bellissima fra Trento e Modena. Davvero bellissima, partita che dimostra che c'è stato e che ci sarà un equilibrio secondo me in tutta questa serie di finale. Partita anche molto emozionante, tanti italiani in campo, insomma è stato veramente un piacere. Difficile anche forse indicare un favorito in questa finale. È impossibile, io credo che mai come in questo caso davvero si parli di 50-50 e qualche dettaglio farà la differenza. Fa piacere rivedere Modena all'alto livello in finale? Fa piacere rivedere Modena che ha creato un'atmosfera e uno spettacolo anche a casa sua meraviglioso per tutto l'anno, che ha vinto già la Coppa Italia. Fa piacere vedere la progettualità di Trento che dopo aver dovuto rinunciare ad alcuni protagonisti importanti in passato ha saputo ripartire con grande lungimiranza ed è lì a condurre in questo momento la finale Scudetto 1-0. Per il resto però c'è stata anche difficoltà economiche in un campionato che magari fa più fatica in questo periodo? Sì, è un campionato che ha perso un po' di qualità però ha permesso anche a tanti giovani di giocare di più in ruoli da protagonisti. Dal mio punto di vista questa è stata una buona notizia. Sia in A2 che in A1 tanti ragazzi che forse qualche anno fa difficilmente avrebbero avuto quella chance, oggi ce l'hanno. Questo è un lavoro che sarà utile anche per la nazionale. Sappiamo che lei è un grande tifoso del Toro, oggi è una giornata molto particolare. Ho potuto giusto mettere una cravatta che celebrasse questa giornata, che è una giornata chiaramente triste ma che anche ricorda la forza di un patrimonio che non è solo del Toro e di questo paese che ha rappresentato il grande Torino.